Tre assalti ai portavalori sulla A9 in provincia di Como fruttarono ai rapinatori un milione e mezzo in contanti e due quintali e mezzo in lingotti d'oro per un valore di quasi 10 milioni, oltre a gioielli per mezzo milione. Proprio un lingotto da 6 chili del valore di 200.000 euro fu trovato in un vano ascensore nel 2013 durante una perquisizione a casa dell'uomo, condannato alla pena definitiva di 20 anni per rapina. Il sequestro riguarda una villa di lusso, tre uliveti, un'auto, un motociclo e cinque conti correnti. Nella villa, oltre all'ascensore interno, c'era una grande vasca idromassaggio e un coprivater in pelle imbottita, tempestato di pietre decorative.